Carissimi amici di Medico Snake, un salutissimo a tutti. Allora, sono finite le ferie, si ritorna al lavoro, a parte che sono ritornato al lavoro più o meno da due settimane, e cominciano anche ad arrivare i pacchi. Oddio, questo è un acquisto che ho fatto io perché è un oggetto che veramente mi serviva perché non ne posso più, ma scoprirete cos'è subito dopo la sigla. Allora ragazzi, intanto come sempre potete vantare della seconda inquadratura, ok? Quindi qui possiamo vedere tutto quello che c'è all'interno del pacco e andiamo subito ad aprire. Allora, dovete sapere che io con le linguette dei pacchi Amazon ho un problema. Oh no, questa volta sono riuscito ad aprirlo a primo colpo. Allora, andiamo subito ad aprire. E questo è un bundle che ho acquistato direttamente su Amazon. Allora, vi faccio subito vedere la cosa. Quindi via il pacco e vi faccio vedere subito le cose piccole secondarie di questo unboxing. Intanto qui possiamo aprire. Possiamo vedere un sacchetto che può trasportare qualcosa, ok? A GPTEC. Allora, qui dentro ci sta un microfono secondario a clip come l'altro che sto utilizzando in questo momento. Proprio questo qua, ok? Quindi praticamente qui abbiamo anche un connettore che va... Sì, un riduttore, però volevo vedere la clip. Infatti, eccola qui. Abbiamo anche la clip all'interno del sacchettino, quindi devo dire che è un sacchettino abbastanza fornito. Ok, adesso non ve lo apro. Magari a fine video farò una prova di questo microfono. E' ok. Allora, il classico connettore 3,5 che funziona anche con lo smartphone. Poi dopo vi spiego perché ho questo secondo microfono. Allora, mettiamolo un po' da parte. Poi abbiamo qui una custodia che al suo interno ci sarà non solo questo microfono che ho acquistato, quindi eccolo qui, quindi non solo questo microfono ma serve a trasportare anche un altro oggetto. Allora ragazzi, sì, una custodia. Cosa può starci in questa custodia? Allora, praticamente io qualche giorno fa stavo lì su Amazon e stavo cercando un registratore vocale in modo da poter registrare l'audio di tutti i miei video senza utilizzare il OnePlus qualora mi dovesse servire per una seconda inquadratura. E infatti sono riuscito a trovarlo. Ed eccolo qua. Un registratore vocale della Sony. Quindi lo andiamo un attimino ad aprire. Allora ragazzi, oggi l'ho pagato un pochino su Amazon perché io, ad essere sincero, stavo cercando un registratore che avesse una batteria proprietaria. e non la possibilità di aggiungere batterie tipo stilo, mini stilo, no? Perché sinceramente sto cominciando un po' a odiarle quelle batterie lì. Allora, eccole qua. Allora, quindi, in effetti ci stanno delle batterie all'interno però sono delle ricaricabili, ok? Mi sono gufato da solo, miei carissimi amici. Allora, all'interno ci sta tutta la manualistica di istruzione. Poi abbiamo le batterie. Vediamo un po'. Ok, togliamo la confezione, mettiamola a parte. Intanto ci stanno i manuali di istruzione in tutte le varie lingue. Ma, ok, mettiamola a parte e diamo spazio al microfono. Togliamo anche la custodia ed ecco qua. Allora, registratore vocale. Ve lo faccio vedere anche da qui, nel caso non si vedesse. Allora, ragazzi, se vedete la luminosità di questo video è perché sto utilizzando un piccolo ring che mi fa luce. Magari alla fine di questo video ve lo faccio vedere. Allora, intanto questo è il registratore vocale. Eccolo qua. Ok. Quindi, non resta altro che provarlo. Allora, mettiamo all'interno le due batterie fornite direttamente da Sony, che sono delle mini stilo. Ok. Magari dopo ve lo provo anche. Girerò qualche clip, sempre se riesco ad aprire le batterie. Ed eccole qua. Allora, mettiamole all'interno. E una e due. Li guidiamo il tutto e vediamo un po'. Allora, togliamo il momento pellicola. Ok. Allora. Allora, allora. Power. Vediamo un po' forse... Ok, devo tenere premuto per accenderlo. Intanto si è avviato. E se non erro, qui dentro abbiamo 4 giga di memoria integrato. Quindi, ragazzi, un registratore vocale che ha 4 giga di memoria integrata. Allora. Vediamo solo un attimino come funziona. Proviamolo un attimino. Sì, menu. Abbiamo 45 ore di registrazione. Ok. Abbiamo anche già un microfono integrato. Collegamento mini USB per poter eseguire la ricarica, le batterie che stanno all'interno ricaricabili. Qui sopra abbiamo sia un ingresso 3,5 per le cuffie, sia un ingresso per il microfono. Allora, io direi di provarlo subito, ragazzi. Quindi io stacco un attimino questo video. E staccherò il microfono dalla mia videoripresa dal OnePlus e utilizzerò solo questo qua. Quindi, ragazzi, sarete voi a dare giudizio su questa nella prossima clip per quanto riguarda l'audio di questo microfono. A tra poco. Allora, carissimi amici, lo sto provando in questo momento. E come potete vedere, lo tengo qui tra le mie mani. Quindi sto provando direttamente a registrare da questo microfono qua. Quindi voi mi farete sapere sia come si sente l'audio direttamente da questo microfono. E successivamente dalla prossima clip andrà a collegare il mio microfono a clip, quello che utilizzo solitamente. E vediamo un po' come andrà a catturare l'audio con il microfono esterno collegato. Bene, carissimi miei amici. Allora, avevo girato una clip precedente prima, però mi sono fregato l'audio perché mi sono accorto di una cosa. Praticamente, in questo momento io adesso sto registrando con il mio solito microfono lavaliera clip. Lo potete vedere qua appeso sulla maglietta, ok? Ma la cosa bella è che qui, se vi ricordate, nella confezione è uscito anche tipo un riduttore. Perché io prima cosa ho fatto? Ho collegato direttamente il microfono all'uscita microfono direttamente del registratore. Solo che però, in questo modo, mi sono fregato l'audio. Poi ho detto che proviamo a collegare direttamente il riduttore direttamente al registratore vocale. E infatti era così. Quindi, sia questo microfono e sia questo qui che è uscito nel bundle che ho acquistato su Amazon, per l'utilizzo necessitano di questo riduttore. Quindi ragazzi, non sia mai io vado a perdere questo riduttore. Eccolo qua, vi faccio vedere dalla seconda inquadratura. Io, beh, non saprei cosa fare perché senza questo riduttore non posso registrare l'audio. Quindi ragazzi, io chiudo il video con questo audio qui e alla fine di questo video mi farete sapere voi, qua in basso nei commenti, mi dite la vostra su come vi è fatto questo audio in queste ultime clip video. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. Se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. E oltre tutto ragazzi, condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale. Allora, intanto vi faccio ancora vedere che qui il microfono sta registrando. Ok, perfetto. E allora, direi che sta procedendo bene. E al di là di questo, solitamente come chiudo il video ve lo dicono, vabbè ve lo dico da tanto e di prassi, conoscete tutte le mie parole per i più veterani di questo canale. Vi trovate anche su Instagram, chiocciola medicosnake, ve lo ricorda anche l'animazione. E qui in basso nella descrizione vi lascio anche il link per acquistare i bundle che ho acquistato io, sia del microfono che mi è uscito qui dalla confezione, sia del registratore vocale e sia della custodia dove io andrò a, diciamo, custodire il microfono quando non lo utilizzerò. Quindi ragazzi, per acquistare queste tre cose qua, qua in basso nella descrizione, se volete sapere qualche informazione più, perché no, magari acquistarlo, vi lascio il link. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao! Allora ragazzi, volevo farvi vedere, perché durante il video vi ho detto che io intanto qua sto registrando ancora con il mio registratore, quindi abbiamo ancora il microfono, allora vi avrei fatto vedere come stavo registrando questo unboxing. Guardate un po' qui alle mie spalle, a parte tutto il casino che ci sta, e abbiamo la fotocamera con il piccolo ring, quindi come potete vedere abbiamo anche il power bank, qui in basso a destra, ok, che mantiene in carica quel ring, perché era totalmente scarico. Quindi ragazzi, beh, vi ho svelato un po' il retroscena di questo unboxing, quindi qui lo potete vedere, perfetto. Ve lo dico anche da quest'altra inquadratura, noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao! Ciao!